COC, nome in codice del centro operativo comunale. Da oggi a Vicenza l'emergenza coronavirus si combatte anche da qui. A Palazzo Trissino, in sala giunta, va di scena la prima seduta. Obiettivo, assistere la fascia più debole della popolazione, a cominciare dagli anziani. I nostri operatori saranno a disposizione del call center che abbiamo attivato per poi intervenire in caso di necessità sugli anziani, dalla spesa alla bolletta a tutte le necessità impellenti per chi non può muoversi da casa per varie ragioni. Gli operatori in divisa della protezione civile daranno tutta l'assistenza necessaria a chi ne ha bisogno, ma ci saranno anche i volontari della Croce Rossa. Basta chiamare lo 0444 22 10 20. È importante rimanere in casa. Quindi noi abbiamo attivato questo numero, lo 0444 22 10 20. Il progetto si chiama Vicenza Sicura, che è un progetto che è l'estensione di quello che attiviamo d'estate, estate sicura. Con questo servizio noi daremo una risposta non solo a quelle che sono le richieste più normali, ordinarie, dei servizi sociali, quindi magari un'assistenza domiciliare o una richiesta di un passo domicilio che verrà seguita attentamente dalle assistenti sociali, ma anche dalle richieste più semplici, che possa essere la spesa online o portare a casa la spesa, riuscire anche al pagamento di una bolletta oppure doversi reccare alle poste, ma anche semplicemente quello di dover accompagnare il cane domestico fuori e l'anziano invece che necessita di rimanere in casa.